Allora, eccoci, possiamo iniziare. Buongiorno a tutti, benvenuti e grazie per essere qui questa mattina, lunedì mattina non è semplice, per parlare di un tema importante, quello della salute del futuro e di come le tecnologie digitali possano aiutarci ad affrontare le sfide del ventunesimo secolo. Mi chiamo Felicia Pelagalli e ho fondato e dirigo Culture, una società che dal 2008 si occupa di innovazione e che negli ultimi anni si è focalizzata e specializzata sull'innovazione nel campo della salute, perché credo che sia una di quelle sfide cruciali insieme alla salute del pianeta su cui dovremo lavorare per trovare appunto nuove soluzioni. Ringraziamo, chiedo di chiudere le porte se è possibile, ringraziamo il Ministero della Salute per l'ospitalità di oggi e siamo contenti di essere qui nel cuore di chi appunto deciderà del futuro, dei prossimi passi e quindi deciderà il futuro della nostra salute. Qui con me ci sono il dottor Antonio Parenti, capo della rappresentanza in Italia della Commissione Europea e il dottor Giorgio Casati, direttore generale dell'ASAL Roma 2. La giornata di oggi è stata appunto ideata da Culture con la Commissione Europea e il Parlamento Europeo, perché crediamo che questo sia un tema da affrontare come Europa e come europei. Ha il patrocinio dell'ASAL Roma 2 e il patrocinio del Roma Tecnopol. Bene, allora io inizierei subito a parlare di Europa, questo spazio dei diritti come lo definiva Sassoli, avete proprio giovedì commemorato il suo ricordo. L'Europa si sta in questo momento occupando dei diritti fondamentali delle persone rispetto all'innovazione tecnologica, quindi come sviluppare intelligenza artificiale, come sviluppare innovazione tenendo sempre alla mente i valori europei e i diritti umani. Passo la parola al dottor Parenti, grazie per essere qui. Grazie, grazie ad essa Pela Galli, è un piacere essere qui, grazie al Ministero della Salute, grazie a tutti i partecipanti e ai relatori. Permettetemi di salutare naturalmente in maniera più calorosa il dottor Marcella perché è un collega che ha fatto il tragitto da Bruxelles per venire qua in questi giorni. In questi momenti non è mai molto facile avere colleghi da Bruxelles per cui è particolarmente apprezzata la sua presenza che anche sarà una presenza naturalmente di rilievo. Non si sente? Più vicino. Lo mangio? Va bene. Grazie per aver naturalmente aperto e creato questo convegno. Parlare di sanità e di intelligenza artificiale oggi è forse più fondamentale che mai. Credo che ancora molti di noi abbiano in testa quello che è stato soltanto due anni fa, una delle prime applicazioni del digitale alla sanità che era il pass vaccinale su un QR code nel nostro telefonino che ci ha permesso di andare in giro per l'Europa dimostrando quello che era un dato sanitario, cioè il fatto che c'eravamo vaccinati in un paese naturalmente vaccinazione che veniva riconosciuta in tutti gli altri paesi europei. innovazione europea adottata da tantissimi poi altri paesi nel mondo e che ha visto due italiani Sandra Gallini e Roberto Viola che credo voi conosciate perfettamente come artefici di questa innovazione. Ma questo è stato soltanto se vogliamo un antipasto di quello che potrebbe essere la digitalizzazione nel futuro nel mondo della sanità. In realtà credo che la ragione che aveva reso quel passaggio così fondamentale e anche così un passaggio di successo sia stato basato su un pilastro molto importante che è quello della fiducia da parte dei cittadini sul modo in cui i dati sanitari vengono utilizzati dalle autorità. E questo è un punto, uno snodo cruciale, uno snodo fondamentale per l'Europa. Fondamentale per quale ragione? Fondamentale perché intanto noi abbiamo un sistema in Europa di protezione dei dati in generale delle persone, non soltanto dei dati sanitari che ci differenzia largamente e fondamentalmente per esempio dagli Stati Uniti. Perché è basato su una vera e propria fiducia del cittadino sul sistema pubblico che i suoi dati non vengano svenduti, che non vengano dati in pasto per finalità che non sono quelle previste normalmente. Dall'altro perché c'è tutta naturalmente una regolamentazione nel mondo digitale, so che ne parlerete anche oggi, dall'IA Act a tutte le altre proposte che la Commissione con il Parlamento ha fatto e che danno un quadro giuridico molto certo sull'utilizzo delle piattaforme digitali, sull'utilizzo dei dati digitali. Bene, questo dovrebbe essere substrato per creare la sanità digitale del futuro, cioè la base è la fiducia dei cittadini nel sistema che viene creato a livello continentale per la trasmissione dei dati. Dati che saranno però anche importanti per tutto quello che è la ricerca scientifica, perché naturalmente la ricerca scientifica ha bisogno di dati e dunque avere un sistema che è veramente sicuro è fondamentale. E d'altro canto, e questa è l'altra faccia della medaglia, costruire una sanità del futuro richiede chiaramente una forte interazione con tutto il mondo digitale, perché potete pensare naturalmente alla cosa più semplice che è il fascicolo sanitario elettronico, che ci potrebbe permettere se ci troviamo in una situazione di difficoltà di essere un altro Paese membro ed essere comunque curati e avere un medico che può avere accesso a tutte le informazioni più importanti che ci riguardano dal punto di vista sanitario, ma significa anche lavorare per poter programmare, per avanzare la medicina e questo naturalmente ha bisogno di ricerca scientifica che si basa a sua volta su dati sanitari. Dunque se volete l'approccio della Commissione, l'approccio dell'Europa in questo momento è un approccio di poter bilanciare queste due esigenze, tutelare il cittadino e facilitare in futuro il progresso della medicina e della salute pubblica in Europa. Per farlo c'è bisogno di tanta ricerca, c'è bisogno ma soprattutto credo anche di tanta discussione con i cittadini, per cui credo che un convegno come quello di oggi che vede un panel di persone di altissimo livello sia fondamentale. Ringrazio la dottoressa Pelagalli per averlo organizzato e auguro a voi un buon ascolto. Grazie. Grazie, grazie. L'Europa ha una doppia sfida, da una parte deve garantire i diritti e quindi basare su questo sentimento fondamentale che è la fiducia, perché la fiducia è la base dell'innovazione e dall'altra però garantire anche dei campioni digitali, cioè riuscire a competere anche a livello economico nello sviluppo dell'intelligenza artificiale con i colossi statunitensi e con la Cina che avanza. Quindi sicuramente l'Europa dovrà aiutare anche il sorgere di campioni economici. Grazie.